Sempre più periglioso il percorso di fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Originariamente la nuova Pescara doveva nascere quest'anno, poi tra le polemiche c'è stato un nuovo differimento al 2024. Adesso è arrivata un'ulteriore proroga. E la presidente dell'associazione Nuova Pescara, Marco Camplone. La nuova Pescara rischia di slittare al 2027, insomma il percorso si fa sempre più travagliato questo cammino. Noi non siamo meravigliati, io parlo a nome dell'associazione Nuova Pescara ma parlo a nome di tantissimi cittadini. Non siamo meravigliati, abbiamo denunciato subito questo tentativo di gettare la palla più avanti. Già a luglio con un comunicato stampa l'associazione Nuova Pescara denunciò che c'era il sentore di un decreto legge che è arrivato. Ricordiamo perché è bene farlo che il progetto di fusione è stato sancito dal referendum 2014 e dalla legge regionale 2018. Sono passati già tanti anni? Sono passati tanti anni, sono passati troppi anni e comunque il lasso di tempo che è trascorso, ahimè, è trascorso per gran parte inutilmente. Probabilmente lo spostamento farà comodo anche ad altre forze politiche ma questo non assolve il centrodestra perché bisogna essere molto chiari e dire alla gente che a Pescara, a Montesilvano, in provincia, in regione e a Roma c'è il centrodestra. Quindi il decreto legge ha delle firme di chi propone questo spostamento con tutti i suoi passaggi che mi sembrano difficili da ottemperare e quindi ci sono delle responsabilità. Intanto il Presidente comincia a prendere forma lo statuto per regolare la vita amministrativa e soprattutto le competenze dei territori. Sì, io credo che tu alluda ai municipi. Anche i municipi furono un suggerimento dell'Associazione Nuova Pescara, oramai datata diversi anni, tre municipi, ma noi abbiamo anche ipotizzato la possibilità di farne cinque in modo da rendere omogenei per quantità di popolazione i territori. Quindi la rappresentanza politica non verrà a scemare. Noi auspichiamo che venga a scemare la rappresentanza della cattiva politica. Il vantaggio più grande derivante da questa fusione? Questo territorio avrà, grazie alla fusione, 105 milioni di euro da spendere. Se a questi noi sommiamo i soldi che derivano dal risparmio in scala che viene fatto da una fusione, se a questo aggiungiamo il contributo regionale, che finora è solo fittizio perché i soldi non sono mai usciti, se aggiungiamo la quantità enorme di soldi del PNRR, ecco che noi possiamo ribaltare questo territorio. Certo, in tutto questo manca un anello della catena, che è quello della buona politica.